I'll be feeling down Christian Sapata Riceve in posizione Colpisce il pallone E c'è il gol dell'Atalanta Prima rito per l'Atalanta Proprio nell'angolo Il partiera non poteva farci nulla Credo che non abbia nemmeno guardato la porta La sentiva Ha colpito di pur istinto Trovando l'angolo giusto Monteggio di 1-0 a Refel Dopo questo gol I prossimi minuti saranno fondamentali Per capire che direzione prenderà la gara Bisogna rimanere sul pezzo E non far ripartire subito gli avversari Prova a verticalizzare Ha tentato l'azione personale Conoscendolo sono sicuro Che cercherà un'occasione per rifarsi Magari ci riproverà ancora Zappacosta Raffaele toloi Il Milan da qualche minuto Due gol di vantaggio Doveva solo buttare il movimento Doveva solo buttarla dentro Ottima pressione la sua Palla recuperata Ecco il cross E' un'occasione per raffaele E' un'occasione per raffaele E' un'occasione per raffaele Sulla fascia in profondità Pallone alto nello spazio Può colpire E c'è il gol con l'Atalanta Rimettono la testa avanti Che partita Un fantastico tiro al volo Per un grande gol Una conclusione da urlo Vede la palla Cerca distinto la volè E calcia con grande convinzione Un gol davvero da brividi E con questo segna una doppietta Davvero una grande partita Raffaele Toloi Sono al costante inseguimento della palla Non è un buon segno questo E' riuscito a passare Qui non ha saputo decidersi E la giocata non ha avuto l'effetto sperato Una scivolata abbastanza dura Sembrava un buon corridoio Non sono riusciti a concretizzare La manovra offensiva Fa avanzare l'azione sulla fascia Savo Castiglieto Reconquesta la palla Insomma Qui dovevano chiudere la partita E non ce l'hanno fatta C'era movimento in panchina Finalmente vediamo Chi ha scelto di fare entrare il mister Ha segnato I tifosi gli tributano Il giusto applauso Palla a Pasalic Tocco preciso Può andare A sinistra con il passaggio Vede libero il compagno Entra in scivolata sull'avversario La difesa adesso sta lavorando un po' meglio Mette la palla in avanti Ecco il tiro Prova ad andare via con eleganza Soltanto rimessa laterale qui Difesa molto distratta in questa occasione Non possono permettersi di perdere la concentrazione così C'è la palla lunga in avanti Milano si riappropria del pallone Può riempostare il gioco Rebic E l'arbitro assegna un calcio di punizione a seguito del fallo E l'arbitro facendo che il fallo è venuto fuori area Solo punizione No ma non si deve commettere un fallo così Questo è un fallo stupido Se stai vincendo la partita Non puoi concedere un'occasione del genere agli avversari a pochi minuti dalla fine Momento fondamentale della gara Buona opportunità Questa è una buona opportunità per il pareggio Vediamo se sceglierà una conclusione di potenza o di precisione Ecco che ci prova Fuori di poco sfortunati qui Ha provato ma niente di fatto Non si darà per vinto Fabio Ci riproverà E trova il compagno Ha la possibilità di andare verso la porta Allarga il gioco con palloni a sinistra Siamo in pieno recupero Non manca molto alla fine ormai Rebic Decide di sfruttare la fascia La butta via e fa respirare la difesa E questo è un passaggio quantomeno discutibile Pasadic Demiral Provano a ripartire da dietro Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara Da parte dell'arbitro Una buona prestazione sul piano del carattere Dell'organizzazione Tutto questo però non basta Per portare a casa un risultato positivo E invece La tua analisi di questa gara Qual è Luca? Non c'è molto da aggiungere Fabio Secondo me su questa sconfitta L'allenatore non sarà contento Io prevedo qualche urlato Metti un po' di musica leggera Perché ho voglia di niente Grazie a tutti Grazie a tutti